La vera notizia è che quest'anno finalmente l'olio c'è ed è buono e la mosca no, quindi ripartiamo dopo l'annata disastrosa dell'anno scorso, ripartiamo con un prodotto che ha la consueta eccellenza per il rigello, un prodotto molto buono, la quantità dalle prime date sulla raccolta sembra essere buona, quindi la rassegna riparte con la sua tradizione, con la voglia di promuovere tutto il territorio, di promuovere attraverso l'olio la nostra cultura e le nostre bellezze.